Il mondo dell'idroelettrico sta vivendo un momento di difficoltà a causa di una normativa completamente penalizzante dello Stato italiano, che è stato l'unico a mettere in gara le proprie concessioni rispetto agli altri paesi europei e sostanzialmente con l'assenza di regole di queste gare questa situazione ha prodotto uno stallo degli investimenti, investimenti che si stimano intorno ai 10 miliardi di Euro a livello nazionale e che sarebbero quanto mai opportuni a fronte di un parco impianti di grande dimensione che supera abbondantemente i 50 anni di età e che avrebbe grandi potenzialità di revamping e di miglioramento di efficienza e di miglior sfruttamento della risorsa idrica. La cosa interessante di questi investimenti è che vanno ad insistere proprio su una filiera industriale nazionale che a differenza delle altre fonti rinnovabili che hanno in qualche modo demandato la costruzione delle tecnologie a paesi esteri, mi riferisco ad esempio al fotovoltaico e all'eolico, in questo caso la maggior parte degli interventi che sono di natura civile insisterebbero su aziende locali che ne beneficerebbero direttamente.